Ponte Cagnano-Faiano contro la violenza di genere. Ancora una volta la città ha scelto di ricordare Anna Borsa, una delle tante vittime di casi di femminicidio. Lo ha fatto con l'inaugurazione del murales a lei dedicato, che sorgerà nei pressi della stazione ferroviaria. È nato tutto ad agosto questo desiderio, questo desiderio di realizzare il ritratto di Anna, in concomitanza di fronte al centro antiviolenza proprio dedicato a lei. Per me, come dico sempre, il suo ritratto parte tutto dagli occhi. Per me quegli occhi che mi hanno portato via, ma che vivono sempre dentro di me, devono essere il coraggio di ogni donna. Di ogni donna che ancora oggi è in difficoltà. E quindi io spero che con questo segnale, perché per me è un segnale che io voglio dare, non perché io voglia realizzare mia sorella vicino ad un muro, anzi avrei voluto che fosse a casa adesso. Però purtroppo la vita a volte è ingiusta. E quindi con questa realizzazione il mio desiderio è che possa portare, diciamo tra virgolette, salvezza a chi oggi è in difficoltà.